L'aveva conosciuta virtualmente su internet da pochi minuti, grazie ad un'amicizia in comune su un sito social. Tanto però è bastato ad un 35enne, residente in provincia di Pescara, per passare dalle avance, peraltro fermamente rifiutate dalla sua interlocutrice, ad una vera e propria richiesta estorsiva. Vittima del ricatto, una 48enne di Pescara, la donna, nella serata del 18 febbraio scorso, nel corso di una chat su Facebook con un utente cui quella sera stessa aveva dato l'amicizia, si era vista minacciare da quest'ultimo, il quale asseriva di aver appena creato, grazie ad un particolare software, video e foto a contenuto pornografico, che la ritraevano, chiedendo, per non pubblicarle, la cifra di 200 euro. Per rendere più credibile il tutto, lo sconosciuto le aveva fatto credere di essere parte di una più ampia organizzazione, capeggiata da un fantomatico boss, che a pagamento avvenuto, avrebbe fatto scomparire per sempre quei contenuti compromettenti. In realtà quelle foto e quei video non esistevano affatto, ma il solo paventarne l'esistenza, aveva fatto sprofondare la donna in uno stato di profonda agitazione, temendo che il ricattatore fosse veramente in grado di creare artificiosamente, e poi pubblicare in rete contenuti multimediali scabrosi, la donna ha deciso all'indomani di sporgere denunce in questura, dove ha raccontato l'accaduto, precisando che l'uomo aveva continuato ad incalzarla anche quella stessa mattina, dandole appuntamento in un bar vicino alla casella autostradale di Pescara Nord, per la consegna dei 200 euro. Una volta uscita dalla questura, la donna si è poi effettivamente recata all'appuntamento, sedendosi ad un tavolo del bar, con colui che fino a poco prima era soltanto un nome su Facebook e che ora era lì a pochi centimetri di distanza. Quello che l'uomo non poteva immaginare è però che all'appuntamento, d'intesa con la denunciante, erano presenti anche i poliziotti della squadra mobile di Pescara, seduti a qualche tavolo di distanza, non appena hanno visto lo sconosciuto ricevere il maltolto dalla sua vittima, sono intervenuti bloccandolo con i soldi in mano. Il 35enne, con precedenti di polizia per rapine furto con strappo, è stato pertanto tratto in arresto con l'accusa di estorsione. Le indagini, che mirano anche a verificare se l'uomo possa essersi reso in passato autore di analoghe condotte, sono dirette dal sostituto procuratore della Repubblica, Rosangela Di Stefano.